Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo è previsto per domenica 10 luglio. La perturbazione atlantica giunta sull'Italia giovedì, tra giovedì e venerdì, è seguita d'aria piuttosto fresca che arriva fino ai Balcani e da qui viene sospinta dall'anticicolone dell'Azorre sulle regioni aderiatiche meridionali, marginalmente invece sulle regioni di Ponente. Allora, cosa ci sarà di particolare? Pochissimi temporali, isolate temporali pomerigliani sul Trentino, Alto Adige, Bellonese e Bassa Calabria. Temperature intorno a 33-34 gradi su Lombardia, Piemonte ed Emilia, 30-32 su Toscana, Umbria e Lazio, meno di 30 gradi sul resto dell'Italia, ossia su quelle regioni che sono più direttamente raggiunte dai venti freschi in arrivo da Balcani.